Ciao a tutti da Valeria. Disney posticipa le uscite di Finding Dory e The Good Dinosaur. Perfetto. Era come un gioco. Avanti. Mentre ero lì non sentivo quasi niente. Ma quando ci ripensavo dopo, a casa o a scuola, avevo voglia di rifarlo. Bravo! Grazie. Mi hai preso tu la camicetta di seta grigia? No. Sei sicura? Ma sì, non rompere, non te l'ho presa. Un uomo mi ha seguito a fuori scuola e mi ha proposto dei soldi. Quanti anni ha lei, veramente? Diciassette. Diciassette anni. Che bell'età. Disney ha annunciato cambiamenti nei piani delle prossime uscite al cinema, sappiatelo. Nel 2014 arriverà nella sala solo la rivisitazione della bella addormentata nel bosco, incentrato sul personaggio di Malefica e interpretata da Angelina Jolie. L'uscita di Maleficent, prevista per il 2 luglio 2014, viene anticipata al 30 maggio. The Good Dinosaur e Finding Dory, attualmente in lavorazione, arriveranno invece con un anno di ritardo ciascuno. The Good Dinosaur, previsto per il 2014, arriverà quindi nelle sale il 25 novembre 2015. Mentre l'uscita del sequel di Alla ricerca di Nemo, Finding Dory appunto, viene spostata dal 25 novembre 2015 al 17 giugno 2016. Vi siete segnati tutto? Bene. Questa era la notizia di oggi, ricordatevi di visitare il nostro sito ufficiale filmisnow.com per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. E noi ci vediamo alla prossima, grazie, ciao!